ciao a tutti allora è da un po che non faccio un video sugli assaggi degli snack orientali e oggi lo farò su una cosa che sembra che vi piaccia molto perché nel mio negozio è la cosa che è venduta di più e io non l'ho ancora assaggiata quindi è giunto il momento di assaggiarlo e descrivermi un po com'è ed è questo sono gli oreo alla torta di compleanno ho notato che all'estero questo tipo di torta con la crema e granellini è molto comune anche se qui non credo di averla mai vista e allora niente ci hanno fatto appunto gli oreo adesso li assaggio al momento non ne ho in vendita sulla pagina questo è l'ultimo pacchetto però visto che appunto so che piacciono molto mi rifornirò molto molto presto sono qui dentro in questo rotolino allora vediamo un po vabbè con la mia solita rilicatezza l'ho distrutto però vabbè tanto devo non poter mangiarli allora vabbè a parte le briciole dentro sono con la crema e due zuccherini e adesso come al solito li assaggio ma vi ricordo che non mi faccio mai vedere in questi video semplicemente perché io non mi farò mai vedere l'ho detto molte volte e se volete sapere perché vi metto il video in cui ne parlavo qua sotto ora assaggio oddio ma sono buonissimi allora detto così non ha molto senso ma sa davvero di torta perché mi ricorda il sapore di quelle torte alla vaniglia con la panna qui si vedono gli zuccherini quindi sono molto più saporiti degli oreo quelli normali sono più dolci non saprei bene come descriverli comunque sono molto buoni volevo vedere se riuscivo ad aprirlo per farvi vedere la grassa sì ce l'ho fatta eccola la grassa con gli zuccherini comunque sono molto buoni di solito non li mangio gli oreo senza latte quindi li proverò anche con latte sono sicura che mi piacerà molto e niente video breve ma intenso no non è vero niente questo era quello l'unica cosa che mi viene in mente da dirvi perché non sono molto brava ad escrivere i sapori comunque sono molto buoni vi consiglio di provarli e io vi saluto ciao